Ciao amica, ciao amico mi chiamo Marcello, faccio questi video perché sono un appassionato di moto, se anche tu come me lo sei, iscriviti al canale e attiva la campanella perché pubblico un video al giorno, così sarai sempre aggiornato sui nuovi contenuti e ti ringrazio. Oggi ti parlo il Kawasaki Z1000 del 2003, con questa moto prodotta a partire appunto dal 2003 e fino al 2006, Kawasaki vuole creare una moto dello stile unico, a partire dagli scarichi, poi vedremo in acciaio cromato, sovrapposti che le conferiscono un'estetica che è sì sportiva ma anche allo stesso tempo elegante e ricercata. Anche con la scelta dei colori arancione come noi lo vedremo, ma c'è anche il verde mele, tipici poi di un periodo passato, quindi degli anni 70 più che di questo periodo, e anche la scelta del nome Z1000 che rievoca la mente appunto la mitica Z1000 degli anni 70, sono di fatto elementi che permettono di riconoscerla immediatamente. Quindi direi a questo punto anche di vederla in questa immagine e notiamo appunto i due scarichi in particolare sovrapposti che conferiscono alla moto un'aura e comunque una riconoscibilità immediata insomma, e appunto come ti ho detto il colore arancione. Ma passiamo alla parte più tecnica e partiamo dal motore, un 4 cilindri parallelo raffreddato liquido, la distribuzione al bialbero con 4 valvoli per cilindro, cilindrata di 953 cm³, con una potenza massima di ben 127 CV e 10.000 giri al minuto e 96 Nm di coppia 8.000 giri al minuto. Il telaio in alluminio è denominato Twin Tube e la sospensione anteriore è formata da una forcella, stelli rovesciati, molto bella, da 41 mm regolabile in estensione nel precarico con escursione di 120 mm. A posteriore siamo in presenza della sospensione di Kawasaki denominata Unitrack, che ha di fatto la regolabilità in estensione nel precarico e permette un'escursione della ruota di 138 mm. Il freno anteriore ha un bel doppio disco con diametro di 300 mm, mentre il freno posteriore singolo ha un diametro di 292 mm. I cerchi sono entrambi da 17 pollici, altre razze molto semplici ma allo stesso tempo eleganti, vediamolo un po' meglio. Eccolo qui anche al posteriore e la capacità del serbatoio di 18 litri con un peso secco di 198 kg. Completare il prezzo della moto che appunto nel 2003 era di 9.990 euro, quindi praticamente 10.000 euro. Se ti è piaciuto il video metti like, se non ti è piaciuto metti dislike, ma iscriviti al canale e attiva la campanella per due motivi. Primo gratis, non ti costa nulla, non contribuisce a diffondere il canale. Ti ringrazio. In secondo luogo faccio un video al giorno, quindi sarai sempre aggiornato sui nuovi contenuti. Ciao, grazie mille per l'attenzione e buona serata.